Finisce con una vittoria questa partita, ma parliamo un attimo della tua gara fondamentale sia in difesa che in attacco, come ti senti? Credo di aver giocato una bella partita, mi sentivo bene fisicamente e credo di aver dato un buon contributo alla squadra sia in seconda linea che in prima linea. Non capita spesso che a noi donne si è data la possibilità di schiacciare così tanto, quindi sono particolarmente contenta. Stasera si è visto in campo ancora una volta un buon precotto e questo ha reso possibile anche un turnover generale tra tutti i giocatori. Sì, direi che questa sera tutti hanno avuto la possibilità di giocare e chiunque è entrato in campo ha dato un buon contributo generale alla squadra, quindi bravi tutti. Si è concluso la prima parte di stagione, avete ancora qualche squadra da vedere, ma per darmi la tua opinione, chi è che vi fa paura quest'anno con tante squadre nuove? Allora, sì, in generale credo che il livello di quest'anno sia migliore rispetto agli anni precedenti. Abbiamo giocato già contro delle squadre meritevoli, l'Aurora è un nostro classico derby, abbiamo perso, quindi sicuramente la temiamo anche per il giornale di ritorno. Il 0-9 Zen, il 0-90 Carugati, insomma, ci sono varie squadre con cui sicuramente avremo il nostro bel da fare al ritorno. Perfetto, grazie mille e buon prossimamente di stagione. Grazie. 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 Grazie.